Non conosce sosta la marcia di Virtus Molfetta nel campionato di Serie C Gold. La capolista passa anche a Mesania per 96-76, ottenendo l'undicesimo successo di fila. Fra gli uomini di Gallo 28 punti per il solito scatenato Bullian, mentre a New Virtus non bastano 5 uomini in doppia cifra. Su tutti Fiusco con 17 punti. Al secondo posto resta Basket Corato, che vede rinviata la sfida casalinga contro Adria Bari. Si avvicina con CBS che fallisce però il possibile aggancio. La squadra di Ciocciola passa a Monteroni per 70-62, ma si inceppa ad Altamura nel recupero della non aggiornata sconfitta per 80-72. Nonostante i 27 punti di Dusels, andamento lento in zona playoff dove Castellaneta scivola ad Ostuni per 91-82. Rincorrendo sin dall'inizio gli avversari, per la cestistica fa la voce grossa il 2 Maksimovic-Stankovic, 51 punti in due e agli Ionici non bastano i 32 di De Angelis. Paga con le sonero coach Longobardi, squadra affidata a Polucci. Non ne approfittamo la New Basket 2012, beffata da nuovo Matteo Ticorato. Proprio come è andata, si ferma a 6 vittorie consecutive il filotto dei ragazzi di Castellitto che sfiorano la clamorosa rimonta. Fermandosi a meno uno al palapinto, finisce 73-72 per i Coratini, guidati da coach Patella. Al termine di un incontro che esalta di lascio, 21 punti fra i locali, e il solito All Week 20 fra gli ospiti che schierano per la prima volta Ranitovic. In rialzo le quotazioni di Libertà Saltamura che passa a Trani per 67-55 contro New JT ancora al palo, superando poi Vieste. Nell'altro recupero si rilancia Roma paracanestro Monteroni che batte a domicilio New Virtus Mesagne per 73-60 agganciandola in classifica a quota 6 punti. Nel prossimo turno la battistrada Molfetta attende Mola mentre a Castellaneta si incrociano i Tarantini e Basket Corato. Nel prossimo turno la battistrada Mola mentre a Castellaneta si incrociano i Tarantini.